Ciao, sono Vincent Hausart, uno dei fondatori di Camping.lux e oggi vi spiegherò perché alcuni campeggi non hanno nulla a che fare con quelli che avete conosciuto in precedenza. Nel 2001 abbiamo creato un'agenzia di comunicazione per il turismo, specializzata in foto e video e per 20 anni abbiamo visitato i luoghi turistici più belli in Francia e in Europa. Così abbiamo scoperto i campeggi che sono diventati i nostri clienti, abbiamo fotografato molti e abbiamo visto miglioramenti in alcuni. Ci siamo ritrovati in incredibili spazi acquatici, splendide lagune e piscine con piscine sempre più paesaggistiche, piscine zen per adulti, sontuose balneoterapie. E anche per i bambini che le infrastrutture sono magiche. I giochi acquatici sono a volte pazzi. Col tempo abbiamo notato che nei campeggi ci sono le aree acquatiche migliori. Ma la più grande novità nel campo del campeggio riguarda gli alloggi. Troveremo cottage con arredamenti molto trendy e di ultima generazione. Tende lodge safari con mobili in legno e ispirazione naturalistica. Cabine sugli alberi estremamente alla moda e innovative, cottage su palafite con vista panoramica sulla natura, tiny house ultramoderne e persino cottage di lusso con jacuzzi private. La cosa migliore è la riconnessione con la natura. I campeggi hanno capito che è un punto di forza e investito nell'integrazione paesaggistica. Dato che visitiamo molti campeggi e lavoriamo con i migliori grazie alla nostra posizione di alto livello, condividiamo i nostri migliori indirizzi con voi. È così che nel 2013 è nato Camping.lux, che oggi elenca i 400 campeggi più belli d'Europa. Il campeggio è la forma di vacanza più eco-friendly. Abbiamo creato un'etichetta Very Green Camp per i campeggi più virtuosi dal punto di vista ambientale. Camping.lux compensa gratuitamente l'impronta di carbonio del tuo viaggio grazie a Green Tripper, senza costi aggiuntivi per te. Oggi i campeggi selezionati su Camping.lux non hanno nulla da invidiare ai più bei club vacanze. Il campeggio è cambiato e te lo dimostriamo su Camping.lux.